Grazie. Un paio di puntualizzazioni e un paio di altri punti del programma che partono da problemi attuali e propongono delle soluzioni concrete e realizzabili in tempi brevi, naturalmente. Progetti chiari e realizzabili. Cosa si deve fare e come si deve fare. Unai era, fino a 50 anni fa, un paese che viveva da agricoltura soprattutto. Abbiamo avuto anche a causa degli incentivi della comunità europea al disimpianto delle culture una serie di problemi funzionali legati a un territorio che adesso non produce più. Abbiamo preso un finanziamento per togliere le vigne, ma non abbiamo più le vigne. Poi abbiamo tolto il grano, poi abbiamo tolto le mandorle e adesso ci troviamo con un territorio spoglio. Non del tutto, ma insomma abbiamo avuto un impoverimento importante. Cosa si può fare? Anche qui abbiamo due proposte concrete. Uno, io ho proposto, ed è una cosa da rivedere subito, che si ricostituisca la compagnia barracellare. La compagnia barracellare ha due funzioni. Una, quella di funzionare come un'assicurazione sul territorio, cioè controllarlo, difenderlo e se ci sono dei danni alle culture risarcire. Due, ha una funzione di controllo sul territorio e anche sulle discariche abusive. Per cui delle persone che sono competenti, che conoscono il territorio, che ci vivono e che lo perlustrano tutti i giorni, sono in grado di controllare, dove ci sono dei fenomeni di degrado, dei danni alle culture oppure delle discariche abusive, di segnalarle e di prevenire questi fatti che portano danni economici da una parte e danni alla dignità nel complesso del territorio dall'altra. Il secondo punto è che la compagnia barracellare è finanziabile con la legge 25 attraverso fondi regionali e significa avere posti di lavoro, dignità del territorio e posti di lavoro. La seconda iniziativa è quella della costituzione di un progetto per la filiera corta. Cosa significa? Esiste già in embrione. Se voi andate a girare per Sinnai, di fronte alle porte delle cade ci sono delle verdure, generi alimentari, prodotti anche gastronomici, di produzione per lo più familiare o di piccolissime aziende agricole. Questi prodotti normalmente sono di qualità superiore a quelli che troviamo ai mercati, perché sono prodotti e consumati subito. La frutta e la verdura, quando è colta, si va e c'è, la grande papà la c'è dietro, te ne non lo zavore, quando ci passa tre disi, su zavore è strunato. Ma così tutto. Se noi riusciamo a organizzare nel mercato uno spazio per i prodotti sinnaesi, diamo due vantaggi. Uno, ai consumatori di poter acquistare dei prodotti di qualità superiore e che sono di produzione locale e di cui sappiamo la provenienza. Il Comune potrebbe farsi carico di istituire un marchio di qualità per questi prodotti. Signor Cedda, ho finito. Ho finito. 5 minuti, Paola. L'altro vantaggio è quello di saltare tutto il percorso, quello del produttore che vende al grossista, il grossista che vende al commerciante, il commerciante che vende all'utente finale. Quindi saltare i prezzi di affitto dei locali, di spese per il personale, di tasse, di guadagno che ognuno di questi passaggi implica e di far guadagnare di più al produttore e di far spendere di meno al consumatore. Secondo progetto, questo è molto importante. La baita. La baita è stata data al fuoco dall'incendio che ha distrutto la pianeta 17 o 18 anni fa. Beh, ci sono ancora i ruderi. 14? Vabbè, più di 10 anni fa. Molto tempo fa. Ci sono ancora i ruderi. Quindi, quello che noi proponiamo, visto che lì a fianco c'è un sito archeologico, ed è un'altra cosa da fare subito, noi partiremo con tutte le nostre forze per realizzare questo progetto, subito, dall'indomani delle elezioni, è quello di rimuovere con molta cura le mura della vecchia costruzione, lasciare il pianale in cemento in maniera di non rischiare, con il movimento a terra, di rovinare quella zona che è un sito archeologico molto importante, e di porre sopra quel pianale una struttura leggerissima in legno, panoramica, con dei vetri che non deturpa il territorio e che ci rende a noi Sinaesi e ai nostri ospiti il più bel panorama sul Golfo di Cagliari. Nessuno ce l'ha. Grazie. Risponde adesso alla stessa domanda la signora Boriconi. Allora, inutile ripetere che i problemi di Sinae comunque sono già elencati nel nostro programma. Non vorrei perdere molti minuti, visto che comunque abbiamo un tempo limitato e a me dispiace tanto non poter affrontare alcuni problemi con tranquillità. Per questo non voglio perdere molto tempo a parlare della situazione del depuratore qua a Sinae, una situazione che ormai ci assilla da diversi anni perché secondo me è un problema che si può risolvere in soli due giorni. Non lo dico io perché non sono un'esperta nel settore, ma lo hanno detto... Lo hanno detto comunque gli esperti, gli tecnici che sono venuti ad esaminare il nostro depuratore. Basterebbero solo due giorni per rimettere in funzione questi macchinari. Quindi è un problema che noi proprio non ci poniamo. Per noi è un problema che si potrebbe risolvere in brevissimo tempo, quindi non sprechiamo ora tempo per elencare in che modo. Tra l'altro sono stati dei tecnici chiamati proprio dall'attuale amministrazione che sono stati pure pagati per poi non essere ascoltati. Questa è una cosa che volevo invece puntualizzare. Diversamente noi, come dicevo prima, sentiamo molto più vicino come problema il rilancio dell'economia, il rilancio di questa macchina amministrativa che ormai è ferma. Secondo me Sinae ha bisogno del vero politico, il politico a tempo pieno che si occupi realmente dei problemi di Sinae, che viva in mezzo alla gente, una persona che abbia stretti contatti con le persone. Io in questo sono molto agevolata perché comunque lavorando nel campo assicurativo sono giornalmente a contatto con numerose persone e quindi mi vengono esposte numerose problematiche che i sinaesi sono costretti ad affrontare. Un occhio di riguardo va dato sicuramente alla zona industriale, come dicevo prima. Questa zona industriale che ormai è poco popolata. Le attività che sono presenti non fanno altro che lamentarsi. Perché? Perché è molto difficile arrivare in questa zona. Quindi già l'apertura comunque di una nuova comunicazione verso quest'area che già era in progetto potrebbe essere il vero rilancio per questa economia. Quindi creare nuove attività, creare nuovi posti di lavoro sfruttando quest'area. Un'area che non deve essere secondo me destinata solo ed esclusivamente all'industria, ma come dicevo prima, non vorrei essere ripetitiva, dovrebbe essere anche dedicata al commercio. Quindi al rilancio delle attività commerciali, alla creazione di nuovi uffici. E perché no? Anche per dare comunque un giusto aspetto a tutta l'area, creare dei parchi. Anche un parco giochi per bambini. Comunque renderla vivibile e più popolata. Questo progetto è molto simile a quello che noi abbiamo per il centro storico. Il nostro centro storico ormai sembra veramente una parte vecchia di Sina, è una parte disabitata. Noi vorremmo rilanciarlo, far tornare a vivere il nostro centro storico, perché comunque è un punto d'incontro. Il nostro centro è la parte fondamentale del nostro paese, ci ricorda le vecchie tradizioni, la cultura e via dicendo. Quindi trasformarlo in una cittadella economica, rilanciando anche le attività che al giorno d'oggi stanno affrontando un periodo di crisi. Quindi incentivare le nuove attività, le aperture delle nuove attività e aiutare quelle già esistenti. Altri problemi, inutile illustrarli, sarebbero le strade. Le strade sono in condizioni poco agevoli, il traffico è rallentato, la segnaletica a volte è spesso ridicola. E poi tante altre cose. Il nostro paese ha bisogno veramente di cambiamento, di un rinnovamento totale. Un altro problema, naturalmente, che è già stato toccato anche da Paolo Zedda, è quello dell'agricoltura. L'agricoltura è un settore primario, secondo me bisognerebbe incentivare gli agricoltori presenti a Sinnai, in modo che la produzione comunque possa rispondere alla domanda. Secondo me l'amministrazione dovrebbe comunque creare la domanda, quindi fare in modo che i paesi vicini o lontani che siano abbiano bisogno del prodotto sinaese. Noi abbiamo grandi risorse e capacità, sta a noi riuscire a sfruttarle. Ho già detto nella mia precedente esposizione che per me i problemi prioritari del nostro paese sono alcuni che ho già citato, non li ripeto. Un problema che si potrebbe risolvere in modo assolutamente veloce e relativamente con, spero, poche finanze, visto che non sono esperta di spese, di realizzazione di lavori pubblici, ma sono il miglioramento principalmente delle strade. Le strade, dico questo perché nel nostro centro storico le nostre strade sono molto strette, la viabilità è in difficoltà per i parcheggi, io abito nel centro storico quindi vivo quel tipo di difficoltà ogni giorno e credo che siccome al centro del nostro programma c'è il cittadino, la principale risorsa è la nostra, scusate, quindi creerei un po' di silenzio, dare sicurezza al cittadino, dare la sicurezza a una madre che esce con una carrozzina e rischia magari di essere investita, quindi un controllo sulle strade da parte dei vigili e da parte di tutti coloro che sono la nostra sicurezza. Il rilancio dell'agricoltura è sicuramente un altro dei fondamentali problemi che il nostro Paese ha necessità di risolvere e questo si farà sperando che si possa avere e dare a tutti un contributo per rilanciare la loro attività così che si possa produrre e vendere direttamente all'interno del nostro Paese come già succede ma in quantità maggiore in modo tale che possa essere una fonte di reddito per molte famiglie. Il lavoro alla disoccupazione è un altro problema principale. Noi speriamo di poter risolvere o almeno diminuire la disoccupazione all'interno del nostro Paese creando, potendo sviluppare i nostri obiettivi. Uno è la creazione di cantieri in cui possano lavorare i giovani, la creazione di parchi per i bambini, per gli anziani che sono sempre e comunque costituiscono una fonte di lavoro, anche se sono brevi e circoscritti ai mesi di lavoro per quel progetto però sono sempre fonti di lavoro. Un altro importante problema che cercheremo di risolvere è il rilancio dell'area industriale. L'area industriale, come sappiamo tutti, ha delle enormi zone che non sono utilizzate. Si perdono opportunità di reddito per il nostro comune quando all'interno di un'area industriale non c'è stata o non c'è una gestione precisa. Io farò in modo, se mi sarà possibile, di occupare nuovamente quelle aree. Adesso io tecnicamente non so come si può fare, se sono già affittate, chiederò poi l'aiuto ai tecnici naturalmente quando entrerò nei particolari dei miei progetti. Un altro punto molto importante è l'abbellimento delle zone costiere laddove è possibile, lo sfruttamento in modo migliore delle nostre aree e dei nostri parchi in quanto abbiamo un territorio estesissimo che va effettivamente dalla montagna al mare sfruttando in tutti i modi e migliorando i percorsi anche per uno sviluppo turistico in questo senso, non solo del mare ma anche della montagna. Ancora la funzione principale di un amministratore dovrebbe essere quella di dare la possibilità al cittadino di approfittare della sua capacità per spendere meno e se mi sarà possibile cercherò in tutti i modi di creare delle fonti che possano permettere al cittadino di spendere meno. Questo è importante per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda l'istruzione e magari per quanto riguarda anche le attività culturali, lo sport e la danza che mi sono molto vicine perché io sono molto vicina alle associazioni culturali per permettere che tutti coloro che hanno un'azione in quest'area abbiano l'uguale contributo per le loro manifestazioni e anche per la loro attività in proprio. è un'altra cosa molto importante, ho finito. Signora Barbara Pugelio. Sì, grazie. Allora, poco fa ho esposto oltre ai punti del programma naturalmente anche le proposte per la soluzione di alcuni, non problemi, ma diciamo di alcune esigenze forti che ci sono nel nostro Paese. Naturalmente essendo amministratore capisco che alcuni problemi purtroppo non si possono risolvere in sei mesi, in due mesi, in due settimane, occorre tempo poiché c'è una burocrazia, la nostra burocrazia italiana è molto molto lenta. Quindi l'importante a questo punto è l'impatto, il cittadino con la macchina burocratica, quindi l'ingresso, l'accessibilità del cittadino ai servizi dell'ente. Ecco, questo è qualcosa che si può migliorare sicuramente organizzando la comunicazione tra tutti voi, insomma noi e il Palazzo Municipale, attraverso progetti di miglioramento, di riorganizzazione dei momenti di front office, diciamo di impatto, in cui il cittadino viene a chiedere un servizio, a chiedere un'informazione riguardo un'esigenza particolare, che può essere un'esigenza individuale del cittadino stesso o un'esigenza che riguarda tutti, ecco, cercare una modalità, un progetto per superarlo. Ci sono dei metodi, dei progetti che si possono tranquillamente attuare in poco tempo, però ci sono altre criticità che occorrono assolutamente, purtroppo, diciamo tempo e il cittadino si lamenta spesso perché non ha subito immediatamente la risposta. Ecco, magari cercare di creare quel livello di comunicazione tra amministratori, ufficio e cittadino, questo si può fare. Altri temi sono stati detti poco fa riguardo il decoro, naturalmente il decoro urbano, l'igiene del territorio e comunque la cura delle campagne. Anche noi abbiamo inserito i baraccelli, come abbiamo detto qua, anche noi. Ci copiate tu? No, non l'abbiamo copiato. No, è però... Perché, semplicemente perché è un'esigenza che nasce da tanti, no Paolo? Sì, sappiamo tantissimi che hanno detto, ma non si può restituire il corpo baraccellare. Abbiamo, dato che ci sono dei fondi, può essere qualcosa che si può restituire di nuovo. Ci sono poi naturalmente tanti, io scusatemi a cuore la sanità e il sociale, e come dicevo prima, ci sono delle possibilità che si possano riportare nel nostro poliambulatorio che è un edificio molto importante, è l'ex scuola elementare, che è uno spazio assolutamente adeguato per riavere, riottenere quei servizi che mancano. E questo è possibile poiché a livello regionale stiamo attendendo una rivisitazione di quelli che sono i servizi sanitari. Quindi, cercando di essere molto presenti a tutti i livelli, quindi parlo degli altri enti, gli enti sovracomunali, essendo molto presenti riusciamo ad ottenere in poco tempo, speriamo, quei servizi che sono venuti a mancare nel tempo. Servizi fondamentali, dalla fisioterapia alla diabetologia, che stiamo arrivando alla territorializzazione di un servizio così importante, e quindi cerchiamo di farci portavoce in maniera anche pedante nei confronti delle amministrazioni sovracomunali per riottenere quelli che sono i servizi che sono venuti a mancare. Quindi diverse sono le esigenze, ma occorre naturalmente capire che ci sono dei problemi che si possono superare in poco tempo e altri che occorrono purtroppo tempi della burocrazia, che purtroppo non sono i nostri tempi. Però cercheremo di essere molto presenti nel tessuto della comunità, all'interno proprio della comunità. Ci siamo abituati. Un minuto? E quindi essendo presenti come? Essendo presenti proprio a livello di amministratori, quindi il contatto con il cittadino è importante. Io credo che fondamentalmente il nostro programma si basa su questo, sul migliorare l'accessibilità, quindi dare risposta immediata, naturalmente con tutti i limiti che l'amministrazione può avere, però essendo molto presenti davanti al problema di un cittadino.